Salve a tutti vedete in questo nuovo video, questo video sarà un video particolare perché vi mostrerò tutti i miei prodotti che ho acquistato nei negozi Lilla Boys, dico da Epic Casa, spero che vi possano piacere. Diverso tipo, adesso voglio mostrare uno a uno, allora come prima, primo primo acquisti che ho fatto, cioè è un colluttorio che non può mai mancare perché io l'utilizzo veramente veramente tantissimo. Io l'utilizzo davvero tantissimo perché non sarà veramente buono e anche il gusto mi dispiace molto forte perché è alcolico, però io ci trovo molto 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 bene. Adesso l'ho usato già, io l'ho usato giusto un po', questo colore ha pagato veramente pochissimo, ha pagato forse meno di un euro, è bello grande come potete vedere, questo colore è molto 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 verde, verde intenso. Devo dire che mi trovo bello, l'ho usato una volta a settimana, però non sempre, perché se non dicono che fa i giolli vedenti. Veramente veramente buono questo qua, io prima usavo un altro perché era più passivo, questo qua invece per l'uso quotidiano, infatti l'uso una volta a settimana. Io ho preso vertice, ho anche tantissimi altri tipi, ma perché mi piace il gusto della menta, poi è bello 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 grande, molto molto grande a quest'app che uso come attestatore. Adesso che l'ho verso, l'ho verso quello, sì faccio i sciacqui, ed è davvero ottimo. Ci trovo molto molto bene. C'è il prossimo acquisto che ho fatto, sono state delle cose davvero lunghissime, che sono queste qua. Allora, io ho avuto dei problemi, infatti è un miracolo che riesca a fare adesso con l'SMR, ho avuto problemi di voce, perché tra che se è il cambiamento di clima, per via dei cambiamenti di tempo, la temperatura, la temperatura, il polline, ho comprato questo qua, come potete vedere, che appunto ha il popoli, il popoli è un po' bellissimo per la cola. Il popoli è sempre persona alcolica, però il gusto è orrendo, è veramente orrendo. Questa boccettina qua, così, che si fa così, si spizza questa boccettina, io ho già usato, e sono andata veramente veramente bene. Non l'ho usato tantissimo, perché è molto 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 forte, il gusto non è tanto buono, però non funziona. Se facciamo al di vola, usate questo qua, perché veramente provo a passare un paio di giorni, e mi è passato solo se usando ogni tanto la sera. Questo qua, questo qua costa già un po' di più, però comunque non è la pena, vedete la coppa, dove avete le parafarmacie, la coppa, anche all'interno, forse non della parafarmacie. Il prossimo acquisto che ho fatto serve apposta, perché ovviamente è tra le mani che le lavo in continuazione, e infatti mi sono fatta anche la ceretta in casa, ho preso questa qua. Per gli amanti del cocco, questa sarà perfetta, per gli amanti del cocco, perché è totalmente insati i latte di cocco, e è fantastica ragazzi. Mi ci trovo benissimo, ha il tappino così dosatore, che si gira, che si schiaccia, cioè sono schiacciuta, sono scelto, è veramente comodissima. Ha un odore fantastico, e ora si ve la provo, diventa un bacio bello. È veramente veramente buonissimo. Si assorbe solo sulle mani, io l'ho spiegato sul corpo, questa di cocco, ti faccio l'altro cocco, è l'altro cocco, io odoro il cocco con la profumazione. Poi si assorbe abbastanza rapidamente, poi con l'uso dei guanti, soprattutto adesso che magari la bella è schiacolata, perché la diamo disinfettante, queste cose qua è l'ideale. E questa cosa qua sta spesso su 2-3 euro, perché me la compra spesso mia mamma, quando è industriale di lei. Io oggi la uso con molta parsimonia, l'ho descritto con olio di cocco, è veramente veramente fantastica, è anche bella grande, è piccolissima. E mi ci trovo molto bene, mi ci trovo, adesso la sto usando da poche settimane, la sto usando, mi piace perché è al tappo dosatore, così almeno mi so regolare meglio, perché ho crema, ne uso veramente poca poca. C'è scritto Natural Oil, è veramente veramente buonissimo, io ve lo consiglio, faccio usare anche come ho fatto, se riuscite a comprarlo. C'è anche il passamacocco, il mio prossimo acquisto invece è stata una cosa che sempre più credo per la mente, e l'ho comprato opposto perché è un integratore alimentare, che sarebbe questo qua. Sono delle pastiglie, sono delle pastiglie di ginseng, in questa scatolina, che è fatta così, mi c'entrò molto bene. Le pastigliette, dal suo interno sono così, sono tante tante pastigliettine qua, così, si schiacciano, si premono, da dietro, queste qua, se non prendono, è questa scatolina qua. Cioè, sono due, sono due lì, sono due lì all'inverno, mi rendono tutti circa due al giorno, ci trovo veramente bene. questa scatolina qua, se non sbaglio, se non sbaglio, sono due lì, sono due anni al 5, ai 6 euro, poi prendo l'atticità, è proprio 4,50 euro, così è proprio molto, molto molto bene. io consiglio di non dare l'equilibrio è una cosa che è molto molto utile e ho detto durante il comprato apposta per quando si fa la depilazione sotto la scella perché ha questo roll dentro una crema che si fa per le pelle fransibili magari appena depilate queste cose qua e veramente mi ci trovo per ora la pelle si chiama teosensitiva e per ora veramente fa uno strato tipo di crema poi questa pallina qua che adesso è un po' attivo non c'è ancora niente prodotto esatto prima della neoderma anche se io normalmente uso quello stick però per quando mi depilio perché c'è l'alco in questo qua non c'è dovrei scusare questo qua il suo costo non lo so probabilmente dovrebbe essere intorno se non sbaglio a più o meno uno o due euro prossimo a questo è una cosa che fa un po' di rumore perché non l'ho ancora spostata perché lo userò per un prossimo smr futuro con calma farò tutto è questa qua e abbiamo una spugna una spugnetta azzurra bianca bianca e abbiamo visto un'altra spugnetta a posto tipo sinistra mi piace molto vedere anche il bianco è un genito per spiegare la pesca c'è bellissima perché c'è l'asura tutto questo è un video che mi piace ho preferito che mi piace con l'alco con lo sti questo qua è un po' di rinco e quindi i miei ultimi acquisti siamo quasi più o meno di una metà però quasi le mie fantastiche salmette che non deve mai mancare queste cose che le pepino sono il pacco molto grande io sono sempre quello per i bambini che sono molto più delicate ci trovo molto 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 e se le levate scontate se le levate scontate a 1 euro e ventino inoltre costano 2 euro inoltre costano 2 euro e ho fatto io lo so tutte con questo tappo perchè sono stata freschezza e mancano ancora pelle umide e non sono solamente tappi le ultime cose una cosa che per la prima volta ho comprato è questa qua che è una lima che la sto utilizzando veramente tantissima che è questa qua mi sarebbe incertere ora questa lì questa lima che se sentite è ruvida anche l'altra parte è più ruvida ancora per regolare le unghie io l'ho usata per regolare le mie in modo che siano quadrate in modo che sul lavoro lo fa molto molto bene infatti praticamente è ancora nuova infatti è spaccata a 1 euro e 90 1 euro e 90 non mettiamo sbaglio comunque è tono e 2 euro ci sono trovate molto 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 bene tengo sempre nella sua scatolina nella sua scatolina che è che è che non lo so che non lo ha aperto e non servire adesso qua la trovate sicuramente in anticoità allora ultimo acquisto sono state queste le strisce di pillatore della steps della streps la strep è un nuovo tipo di strisce di pillatore perché hanno una retina sono molto 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 da usare perché hanno già un verso e sapete non si incollano a tutte le parti ma solo da una quindi hanno un buonissimo step e ci sono totalmente bene ne ho ancora 5 all'interno all'interno ce ne sono 12 e lo usate molto per farmi tutte le gambe ci sono trovate abbastanza bene guardate chiuso anche il single pillo però con tutta la gamba cioè della coscia e della caviglia e queste ci sono trovate molto 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 bene mancate meno di 4 euro se non per le solite euro 40 euro e 50 da Lilla Boys Lilla Bois all'interno e poi insieme trovate anche le salviettine le salviettine molto molto umbliche che sembrano solo dopo la depilazione cioè sono circa un paio all'interno e quindi più o meno l'uso preferisco appunto la crema però se magari qualche levito rimane sono anche molto consigliate molto 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 utile veramente e poi hanno un buon amore anche se io preferisco la crema al cocco ce ne sono un paio all'interno e poi ce ne sono 4 salviette mi sto dando molto 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 bene queste sarò e così ci sono anche in formato più piccolo per il viso per le persone più piccoline se no c'è anche il Lullum ci possiamo utilizzare sono sincero però meglio con questo qua La marca si chiama Trepp, Trepp, a uso professionale e hanno la acera naturale, carite e vitamina M. E' appunto scritto da extra lunghe, 65 professionali, pronti per l'uso speciale tessuto calzato per un strap più efficace. E' un consiglio veramente, mi sono tratta molto 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 bene, ovviamente dovete stare uno strap velo forte, però veramente io e gli altri mi trovo veramente male, scaldatele solo bene, le dovete scaldare sia prima di utilizzarle, sia quando le avete appoggiato sulla gamba, quando le avete a sfrecare sulla gamba, per dare calore e poi strappatele. L'ultima cosa che invece non vi mangio, questo campione di cenone, qua ti tiro per il corpo, Alla mandorla, questo qua è un campionicino, è un po' di lotion e yogurt, vorrò provarlo subito. La mandorla come attuale mi piace veramente tanto, mi preferisco il cocco, però io sono un po' dai gusti, sia quelli tipo limone, agrumi, sia mandorle e cocco sono in particolare. Questi costano tutti i miei acquisti che ho fatto, spero che vi siano viaggiuti in tutto, non so quanto ho speso precisamente, però cerco sempre di non spendere troppo. Ultimamente ecco in questo caso che fare shopping è una grande parola, molte cose ci tornano veramente utili, quindi è un po' rinato il fai data in casa, dalle unghie, anche io faccio anche la tinta in casa, ai capelli, alla pedicura, le unghie, che io non sono sistemata adesso. Anche appunto lo smalto, appunto, mi sapete crescere, sto rimettendo un po' lo smalto, questo mio video vi è piaciuto, anche queste cose che ho comprato, dimmi sotto nei commenti, qual è la cosa che vi è piaciuta di più, vengo un po' poi da te, tipo cerette, cose per i capelli, queste cose qua, io vi saluto e vi auguro una buona serata, una buona giornata in base a quando vedrete i miei video. Spero di poter poi fare altri video, mi hai tratto tantissime richieste, io vi chiedo di aspettare purtroppo perché non riesco a rispettare tutte le richieste, non cerco di io ovviamente accontentare tutti, però nel mio piccolo è veramente difficile fare l'ASMR nella mia zona perché c'è tanto, tanto, tanto casino e ho tanto, tanto, tanto lavoro. Comunque, comunque, avete presente che se volete aiutarvi, sostenermi sotto nella info box, trovate sempre la mia listatrice di serie Amazon, così che io posso fare video sempre meglio. Io vi do un grande saluto e un buon saluto.